Ci troviamo al Centro Sportivo Don Pala, ormai pronto per essere inaugurato. Sì, finalmente, con grande gioia possiamo annunciarlo. Abbiamo fatto i salti mortali per terminare quest'opera, ma il 28 avremo l'inaugurazione per l'Oratori Odi, che per Gandellino è la prima volta che abbiamo il piacere e l'onore di poter ospitare. Ricordiamo cosa è stato fatto, come è stato sistemato il centro. Dunque, il centro è stato praticamente ristrutturato completamente, è stato rifatto il fondo, è stato rifatto il servizio bar, è stata completamente coperta la struttura in legno lamellare, che è qui da vedere, spero che piaccia. Poi non a tutti piace, lo sappiamo, ma andar bene a tutti è un po' difficile, non ci sono dubbi, ma posso dire questo che l'abbiamo fatta con tantissimo entusiasmo, siamo felicissimi di averla fatta. Abbiamo qui la pista ciclabile di fronte che ci passa proprio davanti ed era una cosa a cui questa amministrazione teneva tantissimo. Grazie al cielo siamo riusciti a chiuderla. È stato rifatto anche il fondo del campetto? Sì, assolutamente sì, è stato rifatto con il materiale adeguato allo svolgimento delle attività che ci saranno nelle prossime oratorie e in futuro. In tutto l'investimento ha montato a? L'investimento totale sono 650 mila euro, di cui abbiamo preso 350 mila euro dalla 25 sulla legge della montagna. Tra l'altro c'è anche la possibilità di nuovi sviluppi, ad esempio gli spogliatoi e ad esempio anche la completa copertura dell'impianto. Sì, l'impianto è stato concepito perché se dovessero arrivare degli altri finanziamenti e noi ce lo auguriamo, è abilitato per poter essere tamponato e quindi domani potrebbe diventare una palestra addirittura vera e propria. Per gli spogliatoi? Per gli spogliatoi avevamo pensato appena all'esterno degli spogliatoi con una struttura possibilmente in legno che sia consone alla copertura. Come verrà gestito il centro sportivo? Il centro sportivo viene gestito, l'abbiamo dato in appalto, è stato vinto da un nostro concittadino, da due ragazzi giovani e siamo molto molto felici perché sono opportunità che finalmente anche i nostri hanno e non dobbiamo tutte le volte fare la valigia per andare a cercarsi un pezzo di lavoro e sono per questa ragione e hanno già iniziato chiaramente ad allestire il loro bar, sono sicuro che lo faranno bene e sono altrettanto sicuro che tutto questo funzionerà, non bene, ma molto più di bene.